ciao a tutti noi non mangiamo rinoceronti per lo meno io come avete visto nel disegno nella copertina mio padre paolo quindi vediamo insieme la mia cenetta il mio pranzetto vegetariano fatto assolutamente senza cucinare perché come sapete io non so cucinare vediamo insieme che cosa mangiamo oggi abbiamo un bel piattino con dei fagottini di affettato vegano che vi assicuro sono eccezionali ripieni con un formaggio spalmabile light io vi ho detto che non sono vegana sono vegetariana e quindi i formaggi li mangio non spesso ma li mangio e fatti così sono veramente buoni poi abbiamo dei semplicissimi fagiolini conditi solo con un po di prezzemolo un po di olio un po di sale e chi vuole un goccino di aceto io in genere ce lo metto e dell'humus di ceci di cui io vado veramente pazza accompagnerò il tutto con delle fette ai 5 cereali passiamo all'assaggio assaggiamo questi bellissimi involtini cosa ne dite? cosa ne dite? tataaaan mmm 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 buonissimi con il formaggio spalmabile sono davvero buoni mettiamo davvero delizioso e ovviamente non richiede nessuna abilità se non cuocere i fagiolini bene se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciatemi un bel pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video buon appetito a tutti ciao ciao ciao